Buongiorno bambini, oggi vi presento la consonante G stavolta, quindi il suono dolce, quindi la G col suono dolce perché incontra la E e la I e quindi assume un suono dolce, come la C che incontra la E diventa C e la C che incontra la I diventa C, così la G che incontra la E diventa G e la G che incontra la I diventa G Andiamo a vedere sul libro E allora, metodo, pagina 104 Avete Il genio gentile usa la magia Sentiamo un po' la storia Ascolta la storia e immagina Il genio gentile usa la magia La G ha il suono dolce se seguita da I ed E Ascolta le parole e pronuncia il suono G dolce ogni volta che lo senti Vediamo un po' quali sono queste parole Premiamo quest'altro altoparlante Ci dirà le parole Quando pronuncia le parole col suono dolce Voi dovete ripeterle Proviamo Ascolta le parole e pronuncia il suono G dolce ogni volta che lo senti Per esempio, se senti gelato Sì È un suono dolce Agile Sì, è un suono dolce Agile Girasole Costume No Gallo No Generosità Generosità Bicicletta Gengive Amicizia Ora fate da soli Colore Gentilezza Perfetto, chiudiamo Adesso giriamo e andiamo a pagina 104 No, 105 Eccola qua La G si unisce con le vocali e forma le sillabe La G, quindi con la I, G La G con la E, G Perfetto, scrivete qui con la sillaba che manca E questo qui con G, A, G, A, G, O e G Lo faremo una prossima volta Quindi adesso andiamo alla presentazione che vi ho fatto Perché dobbiamo lavorare col suono dolce G e G Sul quaderno Andiamo alla presentazione Eccola qua Quindi, che dovete fare? Prendete il quaderno Scrivere la data Fare una linea, quinto, rigo Lo sapete oramai a memoria Quinto, rigo piccolo E poi si fa il disegno Il disegno della pagina 104 Questo qui Cioè del genio, gentile, che usa la magia Perfetto Dopodiché, sotto il disegno Dovete copiare la frase Nei tre caratteri Stampato, stampatello e corsivo Esattamente come qui Perfetto Dopodiché Che si fa? Si scrive quindi nei tre caratteri E Nella pagina pulita Dovete scrivere di rosso Re, alfabeto, chiama Cosa chiamerà? Le vocali Ma stavolta abbiamo detto Sono soltanto due Guardate un po' La E E diventa G E lo scrivete anche in corsivo La I E diventa G Quindi stampato Stampatello Corsivo Perfetto Dopodiché Ora nominiamo insieme Gli oggetti Che iniziano Contengono la G Dolce E faremo una sorta di autodettato Quindi Cosa faremo? Ogni volta che spunta Un nuovo elemento Voi lo disegnerete sul quaderno E accanto Nei tre caratteri Si può scrivere il nome Vi faccio l'esempio con i primi Poi So zitta Così indovinate voi il nome esatto dell'oggetto Cominciamo Eccolo qua Perfetto Quindi gelato Girandola Questo che cos'è? Vediamo un po' Se ricordate Cosa sono questi? G Sì Ok Andiamo avanti Non ve lo dico Adesso fate da soli Perfetto Un altro fiore particolare Che inizia con G Allora Questa figura e questa Non iniziano Per suono dolce Ma ce l'hanno all'interno Quindi vi ho dato un piccolo aiutino Ok Andiamo avanti Adesso Ops Ho saltato Ecco qua Adesso Dovete leggere Ecco Non si legge bene Salgo un pochino più su Ora Leggi questa frase Poi Copiala sul quaderno Stampatello In corsivo E infine Illustra Cioè Dovete fare il disegno Allora Qual è la frase? La regina Gisella Gira Tra i gerani Con i gelati Per i suoi gemelli Gino E Gerardo Poi Vede Anche Dei girasoli E li mette In un vaso Insieme Ad una Girandola Ok E adesso Abbiamo finito Buon lavoro Bambini Grazie